Ciao, sono Daina, ho 22 anni e sono diplomata in elettronica. Mi vedete in divisa perché attualmente svolgo il servizio civile. Oltre questo faccio anche la babysitter. Ho deciso di partecipare dopo che la Croce Blu mi ha contattato e mi sono messa in gioco. Sicuramente aiutare le persone nel momento del bisogno è qualcosa che ti lascia un sorriso quando torni a casa. Ah, e il bando scade il 10 febbraio. Muoviti!